Ragazzi sono incazzata come una bestia, una figura di merda colossale A perdere in casa con l'Empoli è una figura di merda colossale E non ci sono arabi che mantengono, non ci sono scuse degli infortunati E non ci sono scuse dei padri, delle traverse perché con l'Empoli in casa E a prendere gol Cutrone, cutrone che non segnava da 15 anni Per una deviazione di anghissà di testa Ragazzi sono incazzata nera perché voglio concepire a pareggiare col Sassuolo che è forte A perdere con l'Atlanta che è forte A pareggiare col Verona che è una squadra ostica Ma a perdere, non a pareggiare ma a perdere in casa Allo stadio Maradona strapieno, davanti allo stadio pieno Una figura di merda colossale con quel di Cutrone Da che potevamo vincerla e il pareggio andava stretto ad un certo punto A tutto l'abbiamo perso, perché poi la cosa bella del Napoli Quando vanno male le cose, mica lo pareggia Allora lui dice vabbè, tipo il Milan Il Milan si stava mettendo in mano con l'Udinese A meno l'ha pareggiata, Ebrahimo ce l'ha portata a casa Invece quando a noi si mettono male le cose, perdiamo direttamente come l'Atlanta Cioè a quel punto abbiamo stravinto con l'Alazio Perché l'Alazio di Sarri faceva schifo 4-0, tant'è che ha perso cosa solo E quindi è Sarri che fa schifo lui la sua Lazio Ragazzi ma anche Spalletti mi ha rotto i coglioni Capisco gli infortunati Allora, io ho il discorso infortunati Voglio pure conceberlo Si è fatto male pure oggi, Elmas e Zidischi Zidischi mal di gola Tosse esce durante la partita per il mal di gola Ma, che cazzo, non esce per il mal di gola, ma stiamo scherzando Elmas, ma botta, non camminava Ragazzi ma dobbiamo fare un pulmino per l'Urd Perché gli infortunati di quest'anno è una cosa incredibile Ogni partita perdiamo uno o due pezzi Ragazzi ma non è che la preparazione atletica è stata fatta male Perché o i giocatori del Napoli sono troppo fragili Perché non è possibile che se un giocatore del Napoli lo tocchi, lo fai un fallo Un mese fuori, due mesi fuori Ma Elmas e Zidischi, cosa quando tornano Cioè ragazzi non c'è più O la preparazione atletica è sbagliata O sono giocatori fragili del Napoli O è sfortuna, non lo so Ma è una posa inconcepibile a perdere in casa con l'Empoli ragazzi Io sono veramente incazzata nera Perché ho detto Col Milan, a San Siro, Domenico Puoi anche perdere Il Milan è forte C'è il premio e c'è il forte Comunque c'ha i terzini buoni E a San Siro lo stai più Ma perdere in casa tua Con lo stato pieno con gol di Cutrone Che da tempi del Milan Cutrone me lo ricordavo Inconcepibile ragazzi Una figura di merda Io però non ho sticato la vittoria del Napoli Perché ho detto Ma l'Empoli è ostico Comunque gioca bene la squadra di Anderazzoli Faccio pure i complimenti all'Empoli Però ragazzi Per quanto l'Empoli gioca bene Anderazzoli E per quanto il Napoli abbia infortunato Ma non puoi perdere in casa con l'Empoli Ma quale scudetto ragazzi Io per cui l'ho sempre detto Quello scudetto di Napoli non l'ho finito Ma l'obiettivo è la Champions L'ho sempre detto Perché il Napoli ogni anno viene meno Le squadre di Spalletti dicevano che durano da settembre a novembre Ed è vero ragazzi Possibile mai che avevano ragione Quando dicevano Eh ma le squadre di Spalletti Partono bene e finiscono male E i primi due mesi durano bene A quel punto è vero ragazzi Ahimè Mi tocca dire che è vero Quando dicevano tutti quanti Che le squadre di Spalletti Partono altissime E poi cadono È vero È vero Perché settembre Ottobre Ok gli infortunati Voglio pure conciupire Non c'era Osimen Però ragazzi Per battere l'Empoli Avevano bisogno di Osimen E Kulbali Perché è una grande perda Di anche Kulbali Perché secondo me Oggi Vedete che con le sester Manolas ha fatto una buona prestazione Avrei messo Raccamani Manolas Mi metti Juan Jesus Che ha la media di Ghoul Juan Jesus Alla media di Ghoul A partita preso Mettevi Manolas E vabbè Anche se ragazzi Lo amo Adoro come giocatore È entrato dieci minuti Ha premuto gol Lascia Che è stata Come si dice Ma sfortuna Quando non togliete Fai prendere il gol Con la testa E ha giocato Sì bene Ma non al massimo Politano è tornato dal covid Prese il covid Da quando Politano è tornato dal covid Non gioca bene Insigna ragazzi Insigna il capitano Il napoletano Insigna Non ha fatto Un cazzo Sempre il solito Tira a giro Sempre il solito A giro A rotti coglioni Mertens Lo amo Ma l'ha fatto Petagna Un morto Che camina Io vorrei sapere una cosa Ma si torna O si men A febbraio Noi due mesi Dobbiamo stare Solo con Petagna Che è un armato Si gira E ci mette E ci mette 15 anni Con le sesta Fuori forte Giovane Ma un ass Non passa mai la palla Vuole entrare con La palla in porta Passa Elmas Così Diamo che lo visti anche Stanker Erano lenti È vero che hai giocato giovedì Ma non è concepibile Che tu Vai ai playoff E le ero pali Che tra l'altro Non siamo passati Deve mandare playoff A febbraio Beccando di scendere la fia Mentre un indietro che passi Non è concepibile Perché se passate playoff Perdi in casa Con le prima figure di merda Da che potevamo fare Tre punti Sul Milan E andare pari punti A seconda di posto Con loro Il Milan si è fatto Un punto su di noi Di più E l'Inter A Sant'Iro vincerà Con il Cagliari Secondo me Avrebbero stiglato La vittoria dell'Inter E condurò a pensarlo Ma ancora Primo posto Ragazzi È stato bello Finché è durato Il sogno scudetto E non perché I campionati finiscono Ma adesso stiamo A metà dicembre Ma non perché Il campionato è finito oggi Ma se tu Avevi un minimo di vantaggio Sulla Juve Su Milan L'Inter L'Atalanta Che ha dimostrato Due coglioni così È andata a vincere In casa del Verona Squadra host Che ne abbiamo pareggiato In casa del Verona E due coglioni così Abbiamo l'Atalanta Le Calcagne Milan Inter Un altro po' C'è Inconcebibile Dove i pareggi Della Juve Del Milan Dovevi solo vincere E basta Non convincere Anche se segnava Mario Lui L'importante era vincere Non convincere Perché abbiamo infortunato Tutto quanto Ma non è concepibile Luperto Ex Del Napoli Luperto Ha fatto un partito Ha chiuso di tutto Il portiere Vicario Vicario come cazzo Si chiama Parato di tutto Poi non parliamoci Pure della sfortuna Del Napoli Pali Traverse Manca un attaccante Di spessore davanti Giusto Manca Osimè Però non è concepibile Che avevi Mertens Politano Insigne Petagna E per segnare All'Empoli Avevi bisogno Di Osimè E di Kulipali E Fabio Ruiz Tra l'altro Ziris Chi prima pure Che uscisse Non granchino Ma demme anche I terzini Di Lorenzo Anche lui male Oggi Ma Ripeto Racamani È stato il migliore Poi saperemo Di in difesa Ma sul gol Preso L'ennesimo Caccio d'angolo Ricordato All'Empoli Abbiamo preso Un gol Deficiente Perché su quel palo Forse anche Ospina Poteva fare qualcosa Secondo me Ma la difesa Male Anche qua E anche Sare Cazzato Vabbè ragazzi Comunque Ripeto Continuando Il ruolo da mesi Mi piaceva Lo sogno Scudetto Napoli Ma arrivare Un sogno Io ho sempre detto Che dovevo puntare Ad andare in Champions Dopo due anni Ma per lo scudetto Non abbiamo La panchina lunga Le panchina Sono scarse La mentalità vincente E quella Anche la natura Mi dispiace Spalletto Lo amo Ma pure E non abbiamo Era squalificato Oggi c'è il secondo E non abbiamo Ragazzi Ogni volta In Napoli Va solo l'entusiasmo In Napoli I primi due mesi Non perdeva mai Solo l'entusiasmo Come abbiamo perso Con l'Atalanta Il paleggiero Col Sassuolo In Napoli È crollato Perché in Napoli Va solo l'entusiasmo Nel momento in cui Poi abbiamo pareggiato Con lo Sassuolo È perso con l'Atalanta In Napoli Ha perso tutte le fiducia A parte gli infortunati È proprio crollata Menta a mente È una squadra Che è un morale Va solo l'entusiasmo Lo stadio pieno Che figlio di merda Ragazzi va bene così Forza Napoli sempre Forza Spalletti E vediamo di non fare Una figura di merda A Milano Ma Prevedo a San Siro Una bella figura di merda E a maggior ragione Se tu batti Milan A San Siro E poi persi in casa Con l'Empoli Quella vittoria Con Milan A San Siro Viene buttata nel water Viene buttata nel cesso Perché se tu vinci a Milano Fuori casa In casa del Milan Che è forte E poi perdi in casa Con l'Empoli Quei punti lì sono buttati Perché i tre punti Che non ti hai fatti in casa In casa tua con l'Empoli Li sei fatti a Milano Ne potevamo fare sei Quindi non è che In Napoli si appara Perché vince con l'Empoli A Milano Anzi è rammarico Di dire Perché non ho vinto In casa con l'Empoli Perché in Napoli Ogni anno Grandi con le grandi E piccole con le piccole Il Sassuolo pareggi Con l'Empoli perdi Può fare un partitone Con l'Atalanta Dove Napoli Mettava forse il pareggio Con l'Atalanta E poi va a perdere Con l'Empoli in casa Grandi con le grandi E piccole con le piccole Sempre a Sassuolo Possono cambiare i presidenti Gli allenatori I giocatori In Napoli È sempre lo stesso Lo scudetto Anche quest'anno Lo vediamo Dal binocolo E anche quest'anno Punteremo andare in Champions Sperando che ci andiamo Che l'Atalanta Sta rompendo i coglioni La Roma Chi lo so Non dico Che la Roma Va in Champions Però Grazie ragazzi Grazie Napoli Grazie a tutti Guarda te Ficura di merda Anche oggi Ci vediamo al prossimo video Ragazzi Sono veramente Incazzata Perché non me l'aspettavo Capisco la sfortuna Perché poi abbiamo preso Le cose del Napoli Pali Traverse Perché il Napoli Sta tanto impreciso Perché i pali Traverse A volte si prendono Anche perché Sei impreciso Sotto porta È poco freddo Non voglio sentire La scusa dell'Europa League Di infortunati Perché contro l'Empa Inconcepibile Ci vediamo al prossimo video Ragazzi Forse Napoli Sempre incazzata Ma sempre innamorata